segui la 7 anche su instagram la 7 ovunque con te è stata prima sottosegretario e poi vice ministro dell'economia con il governo conte 1 con il governo conte 2 e con il governo draghi buongiorno castelli insomma il movimento 5 stelle a cui lei aderiva ha fatto i conti senza l'oste giorgetti al forum ambrosetti di cernobbio addirittura ha paragonato quel governo a quei quattro turisti italiani che in albania sono andati a mangiare poi si sono alzati e se non sono andati lasciando i conti scoperti in questo caso i conti sono quelli della finanza pubblica guardi mi faccio dire una cosa ovviamente da consulente alle imprese e portavoce di sud chiama nord qual è quel governo che da un giorno all'altro blocca una misura che aveva dato in un momento come quello del covid pil posti di lavoro tasse pagate allo stato la follia è questa che oggi come ci dice la presidente del lance ci sono 750 mila famiglie che sono disperate e se questo governo che di centrodestra che dovrebbe tutelare gli imprenditori almeno per l'ideologia non lo fa almeno pensate ai condomini una marea di famiglie che oggi non sanno che cosa devono fare dei tralicci che hanno davanti alle finestre da un anno e mezzo quello che più di tutto sconvolge è che non è che dici cancello questa misura perché mi stava antipatica senza considerare il ritorno del pil ma soprattutto non hai effettivamente quelle risorse che volevi utilizzare per un'altra manovra quindi non si capisce qual è la sostituzione del super bonus degli stipendi che questo strumento generava non si capisce quale la sostituzione lo abbiamo ricordato fin dall'apertura fu un provvedimento adottato in piena pandemia c'era l'economia italiana che precipitava quello fu sicuramente un importante booster per la ripartenza però alla luce di quello che poi è successo alla luce anche della generosità di un provvedimento che adesso tutti si augurano possa continuare non è arrivato il momento di fare un briciolo di autocritica forse quel provvedimento è stato troppo generoso vendere il gratuitamente a tutti i cittadini che vogliono ristrutturare la propria casa castelli compresi castelli non lei ma le 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 rocche e le le grandi residenze è stato un errore guardi mh alcune cose e queste veramente da tecnico e da ex viceministro dell'economia per tre governi con tre maggioranze diverse nelle quali tutti maggioranza opposizione sostenevano questa misura eh oggi è passato meno di un anno e hanno cambiato linea intanto si potrebbe tranquillamente fare una cosa e lo poteva già fare la meloni la scorsa manovra cioè mettere un rubinetto alla misura io dico il super bonus si fa i soldi a disposizione sono questi quando finiscono basta questa cosa la poteva fare l'anno scorso e oggi non saremmo in questa situazione le 750 mila famiglie oggi non sarebbero in questa situazione e le imprese che oggi hanno investito su questo strumento ripeto si sono trovati dall'oggi al domani senza eh una programmazione non è che gli ha detto non fate il super bonus ma le imprese sull'edilizia che è un settore che mi sembra molto importante e che peraltro sostiene eh in maniera trasversale la politica eh adesso mettetevi su questo altro asset no quindi questo non è stato fatto una misura rubinetto la poteva fare già lei l'anno scorso le ricordo che il governo draghi le migliorie le ha fatte il momento in cui erano venute delle cose che quindi lei dice quel provvedimento io lo difendo per il periodo in cui è stato assunto si dovevano prendere delle decisioni politiche che non sono stato prese e eh adesso non ci si può eh lamentare allora io do il benvenuto anche le altre ospiti che si può ancora mettere a posto si può ancora sistemare adesso ci ragioniamo anche con gli altri ospiti che ci hanno io voi noi noi Grazie a tutti.